Musica Cari telespettatori, buonasera, diamo subito inizio ad una nuova puntata in diretta di Primo Cittadino Oggi ospettiamo il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti Bentornato nei nostri studi, sindaco, grazie per essere qua Buonasera, buonasera a tutti voi Vi ricordo che potete intervenire telefonando lo 0721 86 14 33 O inviando un breve messaggio di testo, meglio se su WhatsApp, al 338 49 68 250 Sindaco, la sua presenza è stata richiesta anche da diversi nostri telespettatori E quindi siamo appunto felici, ci sono già arrivati alcuni messaggi Io partirei proprio da uno di questi, poi affronteremo tutto il discorso dei lavori pubblici È arrivato nel pomeriggio, le chiedono qual è la situazione dei lavori post alluvione E quanto ci sarà da attendere prima che Senigallia possa dirsi in sicurezza Pur sapendo che il rischio zero non esiste Ecco questo è un argomento subito che tratteremo Perché vorrei farle poi anche io diverse domande Sui droni, sulla messa in sicurezza del Misa Quindi intanto al telespettatore che cosa possiamo dire, che cosa possiamo rispondere Perché tra le sicurezza al 100% è sempre difficile Gli interventi che sono stati messi in campo sono diversi Da parte ovviamente del commissario e della Regione Marche In particolar modo praticamente hanno iniziato a fare l'escavo del fiume Un escavo del fiume importante perché viene a Senigallia Ci sono delle zone che non si riconoscono più Ad esempio quello dello stradone Misa dove il fiume è stato abbassato per circa 3 metri Rispetto a quello che era il suo naturale andamento Stessa cosa è stata fatta, viene adesso, questo continuerà fino a quasi alla fine del territorio comunale di Senigallia È stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la pulizia della foce Perché sostanzialmente la foce a seguito dell'evento alluvionale Ma più che quello dopo, in quest'ultimo periodo, si è riempito di materiale sassoso e ghiassiglioso Particolarmente pericoloso E poi adesso ci sono i progetti I progetti sono consistiti nella realizzazione della vasca di Bettolelle Che è a buon punto Altre due vasche che sono quelle del ponte Lucerta e di Pancaldo Che sono un po' più nelle zone montane E stiamo aspettando appunto che verranno compiute Verrà individuata un'area di laminazione Che potrebbe ospitare molta acqua nei momenti in cui ci fosse un momento di crisi L'importante è che l'acqua non arrivi dentro la città, questo sì Allora, per quanto riguarda, diceva, i detriti Insomma, che sono stati tolti dalla pulizia del Mese, eccetera Può essere utilizzato quel materiale per il ripascimento della spiaggia di Velluto? La Regione ha dato poi conferma Insomma, c'erano delle analisi che erano state eseguite Sì, stanno tentando appunto Il materiale è rimasto per un po' Perché è stato poi lavato Quindi fondamentalmente è stato tolto da parte del materiale, diciamo, spurio Che era rimasto E quindi essendo stato un po' più pulito Mi dicono in questi giorni che la percentuale di sabbia che è rimasta Potrebbe essere soddisfacente per poter essere poi materiale di ripascimento Che per noi a livello comunale è estremamente importante Perché chiaramente sarebbe del materiale che non dovremmo andare a acquistare da altre parti Cioè un materiale che praticamente non dovremmo andare a trovare altrove Ma che avremmo direttamente lì Anche la tecnologia va a supporto dell'uomo Quindi messi in campo dei droni per cercare appunto di monitorare tutto il fiume Sì, la nostra intenzione è stata duplice Da un lato appunto durante il periodo di quiete Avere la possibilità di controllare il fiume dall'alto Quindi conoscere un attimo quello che è l'andamento e le condizioni Per cui utilizziamo i droni per capire un attimo come è la situazione del fiume Poi dall'altro lato per evitare che nei momenti di crisi Tipo quella che c'è stata appunto il 15 settembre Di dover mandare dei volontari che di notte peraltro si dovrebbero avvicinare molto al greto del fiume Soprattutto in zone che sono particolarmente pericolose Noi abbiamo acquistato e stiamo per posizionare a giorni telecamere lungo tutto il tracciato Che ci consentono appunto di conoscere e di vedere con delle aste metrate Appunto quant'è l'acqua in presenza E quindi in conseguenza poter muovere poi la protezione civile A proposito di protezione civile è stato testato anche l'IT Alert Un nuovo strumento che non va a sostituire quelli fondamentali che stava citando Però può essere appunto uno strumento in più per allertare la popolazione In caso di allerte medio, insomma di situazioni di pericolo Sì, l'IT Alert è più uno strumento dato a livello nazionale Che serve appunto nel momento del pericolo estremo Per dare delle informazioni Esatto, delle informazioni Noi comunque siamo già adottati in un sistema che praticamente copre quasi tutto l'intero territorio Di una messaggistica che praticamente arriva un po' a tutti i cittadini Nel momento in cui c'è la fase del pre-allarme E questi messaggi, cioè è necessario iscriversi a questa mailing list Oppure li avete già voi contatti tramite un sistema, un software? Al momento noi li distribuiamo attraverso Noi abbiamo tantissimi iscritti, diverse migliaia di persone Stiamo cercando di vedere se è possibile collegarci con i ponti radio In modo tale da poterli distribuire a chiunque passi Altra domanda per l'estro, le vasche di espansione Ne avete parlato recentemente in commissione consigliare L'unica soluzione per salvaguardare i vari centri della valle Misenievola Sembra essere quella di un sistema integrato di vasche appunto di espansione E aree in cui l'acqua di fiumi in piena possa essere stoccata Se ne parla da anni, dice il telespettatore Ma ancora ce n'è solo una in realizzazione a Bettolelle di Senigallia Che doveva essere già pronta a fine 2023 E che dovrà essere ulteriormente ampliata Come mai non è stata terminata? Che problemi avete riscontrato? Allora, intanto il sistema delle vasche è vero Quello che dice il cittadino è vero Sono oltre 50 anni che si parla delle vasche 40 anni tutte All'83 io ricordo che mi avvicinavo alla prima votazione Mio padre mi portò a sentire un dibattito tra 5 sindaci della valle E parlavamo di vasche di espansione Purtroppo queste vasche di espansione non sono mai state realizzate La prima è quella di Bettolelle Che dovrebbe concludersi a breve Aveva l'unico problema che intercettava una linea del gas Che credo verrà spostata o sta spostandosi Quindi quella vasca lì è di prossima conclusione Le ribadisco però stiamo aspettando altre due vasche più a monte E soprattutto un'area dell'aminazione La finalità, come dicevo prima È esattamente quella di fare in modo che l'acqua non arrivi A Senigalli e quindi in considerazione di questo Non dobbiamo entrare in una situazione di criticità particolare All'interno del centro urbano E ancora Alba io invece un nuovo Ponte Angeli Ricordo che lei aveva avanzato questa richiesta Ritenendolo non sicuro Io ho chiesto e ho ricontinuato L'ho chiesto nell'immediatezza dell'alluvione Continuo a ribadire che quel ponte a me non piace Cioè non è che non piace Per me è un ponte che non è sicuro al 100% L'abbiamo già comunicato L'abbiamo detto più volte Anche perché quel ponte come vedete Come potete vedere dalle fotografie È un ponte fatto ad un'unica travatura E quindi di conseguenza nel caso in cui ci fosse una piena Può fare un effetto diga come è successo con la notte Sarà difficile però poi ricollocarlo in un'altra zona? Questo non lo so La proprietà è della Regione Marche L'hanno posizionato loro A noi quello che interessa è che possa essere Soprattutto un ponte trasparente Cioè dove l'acqua possa passare sopra Cosa che quella notte non è stata possibile Sono ripresi invece i lavori alla Rocca Roveresca Dove però la sovrintendenza ha stabilito di mantenere intatta la vecchia strada Versa giovedì Lì deve essere eseguito un lavoro che riguarda l'illuminazione, giusto? Sì, quello è un finanziamento Cioè un'opera che abbiamo deciso Che è quello di illuminare la Rocca Il progetto è stato approvato alla sovrintendenza In realtà era stata intercettata una vecchia strada Che all'inizio era apparsa a qualcuno come una vecchia strada In realtà si tratta di una strada che era esistente negli anni 40 E che quindi poi è stata sottoposta Era stata ricoperta Non ci creerà particolari problemi E quindi credo che nei prossimi giorni i lavori potranno procedere senza nessun altro ingombero Una richiesta invece che era stata avanzata dai cittadini durante gli incontri pubblici Riguardava il cimitero di Montignano Anche qui avete approvato il progetto esecutivo? Sì, il problema a Senigallia purtroppo del cimitero è un problema molto annoso Dovuto al fatto che il cimitero centrale ha un piano regolatore molto vecchio Quindi da una parte abbiamo dato in carico per la redazione Un nuovo piano regolatore del cimitero e un allargamento delle aree A Montignano dovevamo già gli spazi Abbiamo fatto questo progetto esecutivo per poter creare dei nuovi loculi Prima di leggere la domanda dei telespettatori Vorrei farvi vedere una fotografia, se ce l'abbiamo Che riguarda il Consiglio Municipale Ragazzi Proprio nei giorni scorsi è stata eletta la rappresentante del Sindaco All'interno di questo Consiglio E chiedo qual è la finalità dell'iniziativa? Noi stiamo vedendo sempre più un allontanamento dalla gente, dalla politica Ma in generale non parlo dei partiti Dalla politica diciamo quella reale, quella istituzionale E quindi il cominciare dai più piccoli Questi sono tutti i ragazzi elementari Quindi li vedete, cioè sono molto piccoli Cominciare dai più piccoli per far capire qual è il senso delle istituzioni Per noi era molto importante Non era una corsa a diventare sindaco La corsa era di interessarsi, tutti coloro che si interessavano alla vita pubblica e alla città Avevano la possibilità di partecipare Ora loro si incontreranno una volta a settimana Sarà il modo per approfondire l'aspetto civico Ma soprattutto per interessarsi a quelli che sono i problemi della città Ginevra Sofia, vediamo in questa foto appunto che è stata eletta È giusto anche partire sempre dal basso Quindi da più piccoli E sì, è anche un bel impegno Perché una volta alla settimana Sì, un grosso impegno E mi auguro di vederla presto come sindaco Adesso fra qualche anno Mai dire mai Mai dire mai Capiamo argomento Parliamo di scuola appunto La sua amministrazione ha puntato molto fin dall'inizio della consigliatura all'edilizia scolastica Come mai? Che situazione avete trovato? Noi abbiamo trovato tante scuole che avevano un indice di vulnerabilità sismica particolarmente critico Noi sappiamo che l'indice di vulnerabilità sismica Che può essere accettabile, deve tendere all'1 È un numero Ma va bene se è stata allo 0,6 e 0,8 Noi abbiamo scuole con un indice di vulnerabilità sismica pari allo 0,02 Quindi sostanzialmente abbiamo cercato di porre non solo i finanziamenti PNRR Ma anche acquisire mutui e soprattutto mettere gran parte del ricavato che abbiamo ottenuto attraverso La lotta all'evasione è proprio sul sistema scolastico In totale oggi noi stiamo rifacendo due scuole medie, due scuole primarie e elementari, due asili e un asilo nido Entriamo nel dettaglio se riusciamo Appunto diceva che anche durante le festività avete eseguito dei lavori Quindi mai interrotti questi interventi Scuola dell'infanzia Collodi e Scuola Fagnani Quali sono stati gli interventi eseguiti? Sulla Collodi è una delle scuole che è fuori da quello che gli ho fatto come elenco Sono stati soprattutto degli interventi che hanno riguardato la copertura E degli interventi relativi alla parte esterna Mentre per quanto riguarda la Fagnani Era un intervento che in parte era stato iniziato dalla precedente amministrazione Noi l'abbiamo ampliato con circa un milione e due d'aggiunta E sostanzialmente quello è proprio un sistema che ci ha permesso di superare le barriere architettoniche Rifare l'interno, riacquisire alcune aule e quindi ridare a quella scuola una grossa capacità e vivibilità A Marzocca invece sorgerà un nuovo asilo? A Marzocca il vecchio asilo nido verrà sostituito da uno nuovo Abbiamo lì praticamente investiremo quasi un milione e mezzo E quindi praticamente all'interno di questa realtà che è particolarmente giovane Avremo appunto una struttura che ci permetterà di poter offrire un maggiore servizio In questo caso fondi PNRR, a quanto ammonta l'importo? Marzocca è un fondo PNRR A quanto ammonta l'importo? L'importo totale mi sembra il fondo Adesso se ricordo le cifre non sono precisi Circo un milione Il costo dell'opera è 1,4 Anche qui immagino che sia anche sostenibile con una classificazione energetica Con una classificazione energetica Vediamo il legno All'avanguardia Alla Pascoli invece dopo i blitz dei ladri Perché purtroppo ci sono state anche due intrusioni In un mese si è parlato di installazione delle telecamere Avete già provveduto all'acquisto? L'avete installata? Insomma pensate di aumentare questi occhi elettronici anche in altre parti della città? Il progetto delle telecamere è oramai ultimato È stato già affidato Verranno posizionate circa 400 telecamere su tutto il territorio Alcune saranno puntate esattamente sulle scuole Quindi eviteranno questi atti vandalici che veramente sono minimali Nel senso che vengono compiuti minimali Nel senso che per entrare a prendere pochi soldi Cioè attaccano le macchinette del caffè Ma che in realtà creano un sacco di disagi per la collettività Quindi questo è un grosso problema Ma che serviranno anche per dare maggiore sicurezza Non solo nel territorio cittadino Nelle strade di maggiore frequentazione Ma anche nelle frazioni Parla, finiamo anche del capitolo scuole Così che poi andiamo un attimo in pubblicità E abbiamo altre domande per lei Quali altri interventi avete in programma? Noi adesso abbiamo in programma Intanto costruiremo la nuova scuola Marchetti Con un asilo e una struttura sportiva Si tratta di un intervento di quasi 10 milioni di euro Sarà una scuola totalmente all'avanguardia Sostituisce una scuola che era molto bella Costruita negli anni 70 Il 15 però di vulnerabilità sismica È veramente ridotta ai minimi termini Poi stiamo rifacendo la scuola Puccini Che purtroppo era stata costruita negli anni 80 E era stata dichiarata inagibile nel 2017 Dopo 35 anni Quindi è stata abbattuta Verrà ricostruita con una palestra Altre due scuole Una è un asilo alla Cesanella Un altro è una scuola primaria alla Cesanella Quindi in totale ribadisco Sono circa 6 o 7 scuole Cantierate Di cui stiamo seguendo i lavori giorno per giorno Sindaco, intanto la ringrazio Ci fermiamo per qualche istante E poi torniamo a leggere i vostri messaggi A tra poco Bentornati in diretta Primo cittadino Siamo insieme al sindaco di Senegallia Massimo Livetti Andiamo avanti con i messaggi Sindaco Rimaniamo in tema di edilizia Ma ci spostiamo su quella residenziale pubblica Il progetto della palazzina ERAP Nel quartiere Saline Partirà o no? Le chiedono Allora su quello c'è stato un forte braccio di ferro Tra noi e l'ERAP Perché era un progetto Che in realtà era stato Sul quale l'ERAP aveva preso Un grosso finanziamento Sempre col PNRR Mi sembra di 3 milioni 3 milioni e mezzo Il problema è che nasce su un'area Che è già molto aldensamente popolata E su questo ne abbiamo fatto una serie di interlocuzioni Pur essendo ormai partito una serie di interlocuzioni Con l'ERAP E ovviamente che sono concluse Si sono concluse poi con una certa Con una richiesta da parte dell'ERAP Di procedere Perché altrimenti ci sarebbero stati Un inadempimento Verrà quindi Io credo che Peraltro non hanno bisogno di atti amministrativi Perché c'erano già in pregresso All'interno del nostro comune Credo che loro potranno acquistare questo terreno L'unica cosa che noi abbiamo chiesto È che la palazzina che era prevista prima Di diversi piani Non so se 7 piani Che abbia almeno 2 piani in meno Rispetto a quello di prima Quindi si spanderanno in larghezza Si dovrebbe partire in queste condizioni qui Quindi sa quando potrebbe partire No, non ho la benché minimità Sicuramente abbiamo un po' battagliato Ma penso che Vediamo un attimo quello che succede L'indirizzo È che probabilmente sarà fatta così Sentiamo chi c'è al telefono Ci dovrebbe essere una telefonata per lei Buonasera Buonasera Io volevo fare un presente al sindaco Il problema di Piazza Garibaldi La piazza del Duomo Questo era il parcheggio più grande di Seniglia Fino a circa 10 anni fa 300 posti auto Tanta gente che passava di lì Sono state abbattute tante di quelle piante È stata fatta anche una L'alimentazione marmorea Quindi Bello sì Però gente è zero Io chiedo quindi Che l'amministrazione Si posa a questo problema Anche per ridare un po' vita A quella parte di città Che dopo la chiusura Diciamo di questo parcheggio È diventata una città Una parte di città Veramente morta Poi non è giusto Che adesso abbiamo fatto Una piazza bella E poi il giovedì C'è il mercato Con le bancarelle Con rispetto per le bancarelle Che sporcano Lasciano dei liquami L'olio Eccetera Quindi sicuramente Non va bene Quindi Chiedo quindi Che venga un po' Rivista anche l'utilizzo Di quella piazza Con più Utilizzo anche come manifestazione Ma ancora di più Ridare un po' Di posti auto Anziché i 300 posti auto Almeno i 60 posti auto Perimetrali Lungo I palazzi Che ci sono In quella piazza Per dare vita Veramente A quella parte di città Ringrazio Buona serata Grazie a lei Per la segnalazione Sindaco Sì In effetti Quello che ha sottolineato Il cittadino È la verità Ci sono state Molte polemiche Credo nel 2018 Quando È stato deciso Di abbattere Tutti gli alberi Che c'erano E di dare La riqualificazione Della piazza Come voi oggi vedete Indubbiamente Questa operazione È stata un'operazione Di recupero Molto buona Per quanto riguarda Quell'area Però evidentemente Ha creato un grosso problema Per le attività commerciali Perché In quella zona È mancato un polmone Dei parcheggi Adesso le alternative Quali sono? Da una parte Per quanto riguarda I parcheggi Il creare dei parcheggi Nelle immediate vicinanze E quindi su questo Si sta ragionando In aree prossime Al di là del fatto Che invece L'idea Oltre che Prossime a quella piazza Ce n'è un altro Che il comune Ha già acquistato da poco Che è l'ex Palazzetto del turismo Lo Iat Che si trova Vicino al mare Dietro proprio la stazione Sul quale erigerà Un multipiano Che quindi Permetterà anche Che la sosta In una città Dove il problema Aviario È estremamente elevato Per quanto riguarda L'utilizzo della piazza Noi la utilizziamo Per gli eventi È questo Più importanti Ma non possiamo Spostare certamente L'attività del mercato Un po' perché rappresenta Una tradizione In quella zona lì Anche se credo Che in futuro Dovremmo un attimo Ragionare Non tanto Per quanto riguarda Lo spostamento del mercato Proprio sull'utilizzo Della piazza Perché ribadisco È una piazza Che va vissuta Oramai Pedonale È stata trasformata Non è che possiamo Tornare indietro Su decisioni così importanti Prese precedentemente Al nostro arrivo Ma ovviamente Dovremmo cercare Di fare in modo Che questa sia una piazza Sfruttarla anche Un po' di più È vero Le chiedono Che Senigallia Ha perso circa 40.000 presenze turistiche Lo scorso anno Come si spiega Questo risultato Allora Senigallia ha avuto Una flessione Allora Intanto i dati Non sono definitivi Sono fermi a settembre Quindi ci manca L'ultimo periodo Indubbiamente C'è una flessione Che però Non è stata considerata Negativamente Da parte Di operatori turistici Tant'è che Per quanto riguarda Albergatori E altre attività Imprenditoriali È stato considerato Con un ottimo risultato La spiegazione È molto semplice Noi nel 2022 A settembre Ci abbiamo avuto Un'alluvione Particolarmente grave Che ha portato A dare un'immagine Una città Particolarmente Non positiva All'esterno E poi ne abbiamo Riavuto un'altra Che credo Abbia colpito Anzi Che ha colpito Altre zone Anche più a nord Che è stata Quella del maggio 2023 Che praticamente Ci ha rovinato Il periodo di maggio-giugno Nonostante questo Il risultato Possiamo dire Alla fine È stato un risultato Positivo E' stato tenuto Grazie anche Alcuni eventi Che abbiamo organizzato E grazie anche A un modo Di presentare La città Diversamente E quindi C'è stato Un recupero finale E so che Molti turisti Stanno anche Attendendo Di sapere Se si svolgerà O meno Summer Jamborì Tant'è che Le chiedono Possiamo considerare Confermato Summer Jamborì O ci sono problemi Economici Per far restare L'evento Di punta Di Senigallia E della regione L'edizione Invernale Che prima Era Senigallia E ora E' stata spostata A Parma E' un segnale D'allarme Dobbiamo preoccuparci? Ma noi Un'edizione Invernale Non ce l'abbiamo Mai avuta Cioè Il Summer Jamborì Quindi chiarisco Subito questo Il Summer Jamborì Ha un'edizione Invernale Che solitamente Veniva fatta O in Svizzera Quest'anno Viene fatta a Parma E che in qualche modo Ci rappresenta un po' Una stagione Di traino Cioè la possibilità Di poter avere Un traino Anche in altri territori Dall'altra parte Ed è questo Un aspetto Molto importante Ci siamo incontrati Credo l'altro giorno E continueremo a farlo Perché credo Da un punto di vista economico Il Comune di Senigallia Manterrà i suoi impegni Penso altrettanto La Regione Marche Quindi Credo che Non ci sono problemi Sulla Sulla presentazione Di questo evento Che non sarà l'unico Quest'estate Al di là di X Master Noi quest'estate A giugno Avremo il raduno Europeo Delle Harley Davidson Che coinvolgerà Credo un po' Tutti gli alberghi Da Pesaro Fino a Cigurità Nova Quindi Le date in questo caso Sono state già Sì Quelle sono La prima settimana In giugno Ci parlano di un'affluenza Di circa 20.000 moto Sono tantissime Con altrettanti turisti Quindi si parla Di numeri veramente importanti Invece per il San Marajambori Ricordo che ha tenuto Proprio un incontro Con gli organizzatori Nei giorni scorsi E si attende anche Il contributo da parte Della Regione Sì Allora Da quando noi siamo arrivati Abbiamo alzato Il contributo comunale Che è passato Da 350 A 400.000 Oltre ovviamente Gli indotti La Regione Marche Ha cominciato a dare Esattamente Dal 2021 Un contributo Alla manifestazione Che noi puntiamo Noi crediamo Che anche quest'anno I prossimi anni Verrà riconfermato Speriamo appunto Che possa Svolgersi Tutto per il meglio Sindaco Quest'anno Il vostro comune Ne parlavamo prima Di andare in diretta Non è toccato Dalle elezioni comunali Per cui prosegue Il vostro Il vostro percorso Tant'è che adesso È entrato anche Un nuovo sessore Sì Quindi Quali sono i progetti Per questo 2024 Oltre alle scuole E sui quali Tenete particolarmente E come sta svolgendo Come si sta svolgendo Il lavoro anche All'interno della Giunta Allora Noi per quanto riguarda Il 2024 Non abbiamo solamente scuole Noi abbiamo Anche parecchi interventi Sul settore viario Anche qui abbiamo speso Già l'anno scorso Circa 3 milioni Per rimettere a posto Le strade Quest'anno Ne abbiamo previsti Quasi altri due Due e mezzo Quindi l'intervento Partiranno a primavera Suppongo Già cominciano adesso Già cominciano adesso Dalla statale Quella che viene fatta Se venite da Fano Appena superato il ponte Vi trovate appunto Una strada nuova Cioè è stata tutta Riasfaltata E cercheremo di fare Anche degli interventi Importanti E eliminare alcune frane Quindi abbiamo investito Molto Poi abbiamo un investimento Importante Per quanto riguarda I palazzi più in vista Da Buonopera Dove trasforiremo Lo yacht Perché è davanti La stazione In generale faremo Un polo unitario culturale Che si collegherà A foro annonario E alla biblioteca Poi abbiamo Palazzo Pionono Dove tutte le associazioni Verranno messe lì Nella piazza Di cui parlava appunto Il signore prima Infine Palazzo Gerardi Che è uno dei più storici È un intervento Molto importante Ma credo che porteremo Tutto quanto piano piano A casa Oltre a questo Gli interventi Sulle strutture sportive Anche qui abbiamo interventi Per circa 10-12 milioni Quindi È un momento Di grande lavoro Per cui Quali impianti Il sindaco Saranno coinvolti Dunque stiamo Per terminare Tutto l'impianto Del campo di calcio Delle saline Dove abbiamo fatto Un intervento Di circa un milione e due Poi c'è la palestra Il palascherma Che in realtà È una palestra Dedicata a 5 sport Di Marzocca Sul quale abbiamo intercettato Anche qui un PNRR Di un milione e mezzo Poi creeremo Una nuova palestra Vicino alla scuola Puccini Abbiamo un intervento Importante Alla Cesanella Dove c'è da rimettere A posto Tutto Anche lì Una palestra Già preesistente E poi stiamo ragionando Su altre strutture Che abbiamo già Nel nostro territorio Insomma Tanti cantieri Sindaco Prima ha parlato Anche di viabilità Puntate pure Sulle piste ciclabili Indubbiamente sì Adesso L'attenzione è rivolta Appena sarà fatto Il ponte ciclabile Che da Mondolfo Anzi da Marotta Arriverà a Senigaglia Quello di poter creare Una ciclabile Che colleghi Esattamente lì Fino a Cesano E quindi poi Continuare una progettazione Che arriva fino in fondo Ultimamente abbiamo fatto Un ultimo pezzo Di ciclabile Che ha prolungato Dal lungomare Fino a quasi A Marzocca Quindi più o meno Cerchiamo di rendere Una pezionalizzazione Del lungomare E anche Le strade interne Sindaco Buon lavoro Lei è anche Il nuovo assessore L'assessore È un assessore Che il precedente Assessore al bilancio Ci ha lasciato Anche per impegni suoi Familiari E attività Personali È arrivata Una nuova Una nuova collega Che io avevo avuto Modo di poter Sperimentare Perché era sul tavolo Come asso albergatori Quindi seguiva sempre La parte turista Tra l'altro Lei è anche un esperta Di questo settore Quindi potrebbe darvi Ho lasciato direttamente La delega al turismo E quindi mi sono presa Un po' quella più barbosa Del bilancio Però ha delle ottime idee E io credo che già I frutti si vedranno A brevissimo Sindaco Grazie per essere stato Con noi E buon lavoro a tutti Grazie Buonasera a tutti Un ringraziamento Ai nostri telespettatori E alla nostra regia Riccardo Soare E Cristiana Guerra Ci vediamo alle 20.30 Per il telegiornale Occhio alla notizia Grazie mille Grazie mille Grazie mille